E' che ogni relazione è unica, solo una cosa vale per tutti. Perché esista l'amore tra due persone, ognuno deve abbrassare le proprie difese e dare l'amore all'altro. Questo significa non dover fingere, ma scegliere ogni giorno di darci l'altro con amore e cura. Sapere che nei momenti felici, come in quelli di difficoltà, l'altra persona sarà al nostro fianco. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa cerimonia non è magica, non creerà una nuova relazione tra di voi, non vi renderà immuni alle difficoltà della vita, ma fare diventare più forti tutti gli impegni presi l'uno con l'altro, nei giorni che sono trascorsi dal vostro primo incontro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.